Si chiama Quick Door, letteralmente porta veloce, ed è il nuovo sistema organizzativo del pronto soccorso di Varese in sintonia con gli altri ospedali della SST Sette Laghi. L'obiettivo è di ridurre i tempi di attesa, massimizzare la capacità di risposta delle strutture sociosanitarie e abbracciare in tutta la sua complessità l'intero percorso di cura, dall'ingresso in ospedale, all'adegenza, alla dimissione, all'assistenza presso strutture collaterali come le RSA o i centri riabilitativi. Oltre a facilitare l'accesso, cercheranno anche di facilitare poi la dimissione, cioè in quelle situazioni in cui già si sa che il paziente non potrà tornare a domicilio ma dovrà seguire prima un periodo di riabilitazione, comunque di covalescenza, in modo da recuperare quell'autonomia necessaria per portare a tornare a domicilio, questa cabina di regia si attiverà sin dal momento del ricovero per individuare poi la sede, il setting assistenziale, la struttura dove poi in fase di dimissione verrà trasferito. Quartier generale è appunto il quick door point, piccolo negli spazi, enorme nella funzione, nella capacità strategica, una vera e propria cabina regia multidisciplinare, la prima in Italia, utile a individuare e mettere in relazione i posti letto disponibili al circolo così come negli altri ospedali del gruppo e pronto in caso di necessità o esigenza di spazio a dirottare la persona verso altre strutture. Auspichiamo che vada a ridurre i giorni di sovraffollamento che in primo luogo sono un problema per i pazienti e per le loro famiglie ma sono anche un problema importante e organizzativo per l'ospedale. Fondamentale naturalmente il ruolo dei medici ma anche quello degli infermieri specializzati, protagonisti di un servizio nel servizio grazie alla gestione diretta dei codici minori che necessitano di piccoli ma importanti interventi specifici, nonché di qualche indicazione o di consiglio dal valore pratico e perché no formativo. L'origine di tutto questo sono il 60-70% dei codici bianchi, i codici verdi, ovvero l'inappropriatezza dell'accesso ai prontosoccorsi e qui una risposta fatta elevando le figure professionali. Qui l'infermiere che è un infermiere professional, ovvero con delle competenze capaci di prendere in carico questo tipo di codici minori, ma codici che comunque sono persone, persone che hanno bisogno di avere una risposta e in questo modo ce l'hanno e ce l'hanno anche con tempi più brevi. Figure chiave del nuovo corso il case manager che segue il paziente fino alla dimissione, e il care manager che lo segue dopo l'uscita dall'ospedale per un supporto concreto e costante fino al termine del percorso di cura. Ringrazio veramente il dottor Bonelli e la sua squadra per questo modo concreto di affrontare un tema. Il primo esempio in Lombardia e io conto molto sul successo di questa sperimentazione.